Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come principale diritto di ogni individuo. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come principale diritto di ogni individuo. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come principale diritto di ogni individuo. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.